Ciao, bel giovanotto! Oh, beh, salve signore. Oggi è una bella giornata, vero? Sì, oggi è veramente una bella giornata. Ti andrebbe di stringermi la mano? Beh, sa, sono un po' in ritardo. Allora dai, stringimi la mano, sporcaccione! Ok, va bene. Oh, sì! Le serve qualcosa, per caso, qualcos'altro? Devo camminare verso la sinistra, io. Puoi toccarti la bocca. Mi scusi, ma io non posso, però... Toccati la bocca! Ehi, cosa c'è di così tanto divertente? Mi sono toccato il buco del culo con la mano. Oh, questo è disgustoso, signore! Dio, affanculo! Puttana di merda! Si faccia a maledire. Veramente è una cosa cattivissima quella che ha fatto. È molto disgustoso. Cosa? Già, quindi adesso mi sa che chiamerò proprio la pol... Ah, è morto. Ok. Quindi, avete imparato la lezione. Non stringete la mano agli sconosciuti. Perché potete baciare il culo di qualcun altro. Oh, che schifo. Eh? Quale virus? Di cosa parli? Non mi sento troppo bene. Toccami la mano, sporcaccione! È? Ha? Ha? Ho! Ho! Grazie a tutti